Buongiorno a tutti, siamo gli studenti dell'Istituto Tecnico e Tecnologico Buonarrotti di Trento. Partecipiamo al progetto Tu Sei in collaborazione con l'azienda GP. GP è un'azienda informatica leader in Italia che offre servizi e tecnologie per la sanità, il sociale e la pubblica amministrazione. La nostra offerta è variegata e divisa in vari settori. Io faccio parte dell'ASA Automation che si occupa della logistica del farm, dello stoccaggio fino alla somministrazione, anche e soprattutto con soluzioni robotizzate. Qual è l'idea che abbiamo sviluppato insieme per il progetto Tu Sei? Nell'ambito del progetto Tu Sei abbiamo proposto ai ragazzi la creazione di una nuova interfaccia grafica, moderna e accattivante, per l'interazione con il magazzino robotizzato PIDEL. Il progetto Tu Sei ha presentato a proposta di progetto a nostri studenti del Buonarrotti. Vi ha seguito un incontro di brainstorming dove abbiamo condiviso le idee sulla soluzione migliore da adottare. Il progetto è partito con grande entusiasmo. Nel lavoro del nostro team abbiamo sviluppato un prodotto innovativo, intuitivo e moderno. Anche durante il periodo di lockdown non ci siamo resi e abbiamo continuato il progetto tramite Smart Working. Questo progetto ci ha convolti e appassionati fin da subito. Pur lavorando a distanza, grazie al gruppo, ogni giorno ci siamo sentiti migliori e capaci di affrontare le sfide. Grazie davvero a tutti per l'opportunità che ci è stata offerta. Grazie a tutti.